Hai deciso di modificare l'assetto della tua auto, hai qualche dubbio se mettere solo le molle, cambiare gli ammortizzatori insieme alle molle o se passare a un assetto regolabile a ghiera? Guarda, in questo video voglio cercare di darti una maggiore informazione su quello che è soprattutto la ripartizione dei pesi della macchina. Sì, perché se tu hai una macchina che pesa 1200 kg, 1500 kg, 2000 kg, non è che tutte e quattro i punti di appoggio, quindi tutte e quattro le ruote a terra pesano allo stesso modo. Possiamo di mettere la macchina su un computer collegato a quattro bilance elettroniche. Noterai che l'anteriore pesa di più se hai il motore anteriore e il posteriore tende solitamente a pesare di meno se logicamente il motore è sull'assa anteriore. Se poi sull'assa anteriore hai anche la trazione, vedrai che la differenza è molto ampia. Ora, non è solo quello, noterai che a destra e a sinistra avrai due pesi differenti e così anche dietro, destra e sinistra, tra di loro sono differenti. Ora, qual è il vantaggio di avere un assetto a ghiera qualora tu decidessi di prendere un assetto a ghiera? Che puoi andare a perfezionare e ottimizzare queste ripartizioni di pesi per avere un carico maggiore sull'anteriore, un carico maggiore sul posteriore o addirittura modificare la destra con la sinistra, quindi pareggiarle, perché le macchine non sono proprio tutte allo stesso peso. Cioè, non è che se davanti abbiamo 700 kg, l'asse anteriore destra pesa 350 e l'asse anteriore sinistra ne pesa altri 350. Vedrai che magari, faccio un esempio, ne pesa 300 la sinistra e 400 la destra. Butto lì dei numeri, non prenderli come assoluti. Ora, con un assetto a ghiera puoi andare a giocare, a ottimizzare questo proprio in base alle tue esigenze, in base al tipo di pista, in base a come ti piace il comportamento macchina. Quindi, quando decidi di prendere un assetto, valuta bene. Se non hai voglia di tribulare e mettere su un assetto a ghiera, vai con delle molle ed eventualmente molle e ammortizzatori. Se invece ti piace e vuoi andare a trovare il giusto feeling di guida per le tue esigenze, passa a un assetto a ghiera. Però, non ti basare che poi dopo chiami l'installatore e gli dici, ma guarda, mi dai un setup di base? No, non funziona così. Fatti la tua configurazione ideale per avere la macchina che si cuce addosso al tuo stile di guida. Così, vai a regolare, vai a calibrare quello che sono le tue necessità. Ok? Non ti basare, ah, ma io ho fatto così, ma io ho fatto colà. Fatti le tue esperienze e se puoi, vai da Kia a queste bilance. Perché in questo modo riuscirai ad avere un assetto, un setup che sarà una bomba. Ti cucirai veramente addosso l'assetto della macchina. Spero che sia proprio tutto. È un argomento molto profondo, potremmo andare avanti e discuterne per tanto. Se ti interessa, scrivimelo qua sotto, come sempre per mio piacere, e condividi e un like alla pagina. Ciao e alla prossima, andiamo a Nelle Sabatino.